Partita regolamente questa gara, a passaggio 15 giri da percorrere. Partita regolamente questa gara, a passaggio 15 giri da percorrere. Campana a meno 10, eliminazione da meno 9. Passaggio a meno 13, questa prima fase, che non è particolarmente sostenuta. Non è ancora una fase di studio, notiamo che gli atleti sono completamente allineati in gruppo. Timido accenno di reazione, anzi lo scatto vero e proprio al passaggio dei meno 12. Con due atleti di Berlusco che creano il vuoto dietro di loro, inseguiti dalla coppia atleti red black e un altro atleto di Berlusco che incalza i suoi compagni di squadra. E' sempre il trittico degli atleti del Berlusco a comandare questa gara, seguito dalla coppia atleti red black e atleti di casa, perfettamente conoscenti della pista campana. Campana, siamo a meno 10, dal prossimo giro, eliminazione tutti i giri. Passaggio dai meno 9, eliminazione in corsa. E' l'atleta 123, Dolcetti Marco, che transita in questo momento nel ritirino d'arrivo e transita sul trequarto, l'ultimo di questo giro, eliminato. In questa fase di gara. Passaggio dai meno 8. Nell'atleta numero 58, Silva Lorenzo ha dover lasciare la gara perché ha eliminato questo traguardo. Passaggio dai meno 7, eliminazione in corsa. Passaggio dai meno 6, eliminazione in corsa. Passaggio dai meno 5. Passaggio dai meno 5. Passaggio dai meno 5. Passaggio dai meno meno 7 per il gruppo per il gruppo di testa. Passaggio dai meno 6 per il gruppo di testa. E quindi eliminazione in corso. è la 30.95 farà ogni anno che deve lasciare perché è un passaggio il traguardo il traguardo il traguardo intanto il gruppo trans sta sul traguardo per il meno 4 è la 30.961 a meno 4 intanto il gruppo trans il traguardo del meno 3 salta l'eliminazione del prossimo giro per la doppiaggio della 30.31 Lazzarini-Giacomo quindi in pratica è come se fosse stato eliminato al passaggio dei meno 3 eliminato il numero 52 per taglio di percorso Baglietta-Gabriele intanto siamo arrivati in dirittura d'arrivo siamo all'altra guardia